lontano dopo aver cercato inutilmente dappertutto questo e quel capo di vestiario e aver imprecato porco diavolo non si sa quante volte tra sbuffi e grugniti ogni sorta di gesti rosi alla fine pietro milio o don paranza come lo chiamavano in paese sentì il bisogno di offrirsi uno sfogo andando a gridare alla parete che divideva la sua camera da quella della nipote venerina dormi sai fino a mezzogiorno cara ti avverto però che oggi non c'è lo sciocco che piglia pesci per te e veramente quella mattina don paranza non poteva andare alla pesca come da tanti anni era solito gli toccava invece porco diavolo vestirsi di gala e impuparsi secondo il suo modo di dire già perché era viceconsole lui di svezia e norvegia e venerina che dalla sera avanti sapeva del prossimo arrivo del nuovo piroscafo norvegese ecco qua non gli aveva preparato né la camicia inamidata né la cravatta né i bottoni né la finanziaria nulla insomma in due cassetti del canterano il luogo delle camicie aveva intravisto una fuga di spaventatissimi scarafaggi comodi comodi scusate disturbo nel terzo una sola camicia chissà da quanto tempo inamidata incallita don paranza l'aveva tratta fuori con due dita cautamente come se anche quella avesse temuto abitata dai prolifici animaletti dei due piani superiori poi osservando il collo lo sparato e i polsini sfilacciati bravi aveva aggiunto avete messo barba e sarà andato a stropicciare sulle sfilacciche di un mozzicone di candela stearica era chiaro che tutte le altre camicie che non dovevano poi essere molte stavano ad aspettare da mesi dentro la cesta della biancheria da mandare al bucato i vapore mercantili di svezia e norvegia viceconsole della scandinavia porto empedocle don paranza faceva nello stesso tempo anche da interprete virali piroscafi che di là venivano a imbarcare zolfo a ogni vapore una camicia inamidata non più di due o tre l'anno per amido poca spesa certo non avrebbe potuto vivere con gli scarsi proventi di questa saltuaria professione senza l'aiuto della pesca giornaliera e di una misera pensioncina di danneggiato politico perché essi signori bestia non era soltanto da ieri come egli stesso soleva dire bestione era sempre stato aveva combattuto per questa cara patria e s'era rovinato cara patria cara patria era perciò anche il nome con cui chiamava qualche volta la sua miserabile finanziera venuto da girgente ad abitare alla marina come allora si chiamavano quelle quattro casucce sulla spiaggia alle cui mura firando lo scirocco venivano a rompersi furibondi i cavalloni ricordava di quando porto empedocle non aveva che quel piccolo molo detto ora molo vecchio e quella torre alta fosca quadrata edificata forse per presidio dagli aragonesi al loro tempo e dove si tenevano ai lavori forzati i galeotti i soli galantuomini del paese poveretti allora sì pietro milio faceva denari appalati e interpreti per tutti i vapori mercantili che approdavano nel porto non c'era altri che lui e quella pertica sbilenca di agostino di nica che gli veniva presso allora come un cagnolino affamato per raccattare le briciole che gli lasciava cadere i capitani di qualunque nazione fossero dovevano accontentarsi di quelle quattro parole di francese che scaraventava loro in faccia in perterrito con pretto accento siciliano mosfieure chossè eccetera ma la cara patria la cara patria una sola veramente era stata la bestialità di don paranza quella di aver avuto vent'anni al 48 se ne avesse avuto 10 o 50 non si sarebbe rovinato colpa involontaria dunque nel bel meglio degli affari compromesso nelle congiure politiche aveva dovuto esulare a malta la bestialità di averne ancora 32 a 60 era stata si sa conseguenza naturale della prima da malta alla valletta in quei 12 anni sarà fatto un poco di largo aiutato dagli altri fuoriusciti ma il 60 ci pensava e fremeva ancora a milazzo una palla in petto e di quel regalo di un soldato borbonico misericordioso non aveva saputo approfittare era rimasto vivo tornato a porto empedocle aveva trovato il paese cresciuto quasi per prodigio a spese della vecchia girgenti che sdraiata sull'altocolle a circa quattro miglia dal mare si rassegnava a morir di lenta morte per la quarta quinta volta guardando da una parte le rovine dell'antica cragante dall'altra il porto del nascente paese nel suo posto il milio aveva trovato tant'altri interpreti uno più dotto dell'altro in concorrenza fra loro agostino di nica dopo la partenza di lui per l'esilio rimasto solo sarà fatto d'oro e aveva smesso di far l'interprete per darsi al commercio con un vaporetto di sua proprietà che andava e veniva come una spola tra porto empedocle e le due vicine isolette di lampedusa di pantelleria agostino e la patria il denica serio serio picchiava con una mano sui dindi nel taschino del panciotto eccola qua era rimasto però tal quale bisognava dirlo senza superbia madre natura nel farlo non si era dimenticata del naso che naso una vela in capo quella stessa berettina di tela dalla visiera di cuoio e a tutti coloro che gli domandavano perché con tanti bei denari non si concedesse il lusso di portare il cappello non per il cappello signori miei rispondeva invariabilmente ma per le conseguenze del cappello beato lui a me invece pensava don paranza con tutta la mia miseria mi tocca di indossare la finanziaria ed impiccarmi in un colletto inamidato sono vice console io sì e se qualche giorno non gli riusciva di pigliar pesci correva il rischio di andare a letto digiuno lui e la nipote quella povera orfana lasciatagli dal fratello che lui così sfortunato e appena sbarcato in america vi era morto di febbre gialla ma don paranza aveva in compenso le medaglie del 48 e dei 60 con la canna della lenza in mano e gli occhi fissi al sughero galleggiante assorto nei ricordi della sua lunga vita gli avveniva spesso di tentennare amaramente il capo guardava le due scogliere del nuovo porto ora tese al mare come due lunghe brazza per accogliere in mezzo il piccolo molo vecchio al quale in grazia della banchina era stato osservato l'onore di tenere la sede della capitaneria e la bianca torre del faro principale guardava il paese che gli si stendeva davanti agli occhi da quella torre detta il rastiglio a piede del molo fino alla stazione ferroviaria laggiù e gli pareva che commesso di lui gli anni e i malanni così fossero cresciute tutte quelle case là quasi l'una sull'altra fino ad arrampicarsi all'orlo dell'altipiano marnoso che incombeva sulla spiaggia col suo piccolo e bianco cimitero lassù col mare davanti e dietro la campagna la marna infocata colpita dal sole cadente splendeva bianchissima mentre il mare di un verde cupo di vetro presso la riva si indorava tutto nella vastità tremula dell'ampio orizzonte chiusa da punta bianca a levante da capo rossello a ponente quell'odore del mare tra le scogliere l'odore del vento salmastro che certe mattine nel recarsi alla pesca investiva così forte da impedirgli il respiro o il passo facendogli garrire addosso la giacca ai calzoni l'odore speciale che la polvere dello zolfo sparsa dappertutto dava al sudore degli uomini affacendati l'odore del catrame l'odore dei salati la frore che esalava sulla spiaggia dalla fermentazione di tutto quel pacciame d'alghe secche misto all'arena bagnata tutti gli odori di quel paese cresciuto quasi con lui erano così pregni di ricordi per don paranza che nonostante la miseria della sua vita era per lui un rammarico pensare che gli anni che facevano lui vecchio erano invece la prima infanzia del paese tanto vero che il paese prendeva sempre più di giorno in giorno vita coi giovani e lui vecchio era lasciato indietro da parte e non curato ogni mattina all'alba dalla scalinata di montoro il grido tre volte ripetuto ad un banditore dalla voce formidabile chiamava tutti al lavoro sulla spiaggia uomini di mare alla fatica non paranza gli udiva dal letto ogni alba coi tre appelli e si levava anche lui ma per andarsene alla pesca brontolando mentre si vestiva sentiva giù stridere i carri calichi di zolfo carri senza molle ferrati traballanti sul bracciale fradicio dello stradone polveroso popolato di magri asinelli bardati che arrivavano a frotte anch'essi con due panni di zolfo a contrappeso scendendo alla spiaggia vedeva lo spigolare della vela triangolare ammainata a metà sull'albero in attesa del carico oltre il braccio di levante lungo la riva sulla quale si allineava la maggior parte dei depositi di zolfo sotto alle cataste si impiantavano le stadere sulle quali lo zolfo era pesato e quindi caricato sulle spalle degli uomini di mare protette da un sacco commesso alla fronte scalzi in calzoni di tela i uomini di mare recavano il carico alle spigonare immergendosi nell'acqua fino all'anca e le spigonare appena cariche sciolta la vela andavano a scaricare lo zolfo nei vapori mercantili ancorati nel porto o fuori così fino al tramonto del sole quando lo scirocco non impediva l'imbarco e lui lui lì con la canna della lenza in mano e non di rado scotendo rabbiosamente quella canna gli avveniva di borbottare nella barba lanosa che contrastava col bruno della pelle cotta dal sole e con gli occhi verdastri acquosi porco diavolo non m'hanno lasciato neanche pesci nel mare seduta sul letto con i capelli neri tutti arruffati e gli occhi gonfi dal sonno venerina non si risolveva ancora ad uscire dalla sua cameretta quando di per la scala uno scalpiccio confuso transiti affannosi e la voce dello zio che gridava piano piano eccoci arrivati corse ad aprire la porta s'arresta sgomenta stupita esclamando oddio che c'è davanti alla porta per l'angusta scala una specie di barella sorretta penosamente da un gruppo di marinai ansanti costernati sotto un'ampia coperta dal bagio qualcuno stava a giacere su quella barella zio zio gridò venerina ma la voce dello zio le rispose dietro quel gruppo d'uomini che si affannavano a salire gli ultimi gradini niente non ti spaventare ho fatto pesca anche stamattina la grazia di dio non ci abbandona piano piano figlioli siamo arrivati qua entrate ora lo adageremo sul mio letto venerina vide accanto allo zio un giovane di statura gigantesca straniero all'aspetto biondo e dal volto un po' affumicato che reggeva sotto il braccio una cassetta poi chino gli occhi sulla barella che i marinai per riprender fiato avevano deposto presso l'entrata e domandò chi è che è avvenuto pesce di nuovo genere non ti confondere le rispose don pietro promuovendo il sorriso dei marinai che si asciugavano la fronte vera grazia di dio su figlioli brighiamoci di qua sul mio letto e condusse i marinai col triste carico nella sua camera ancora sotto sopra lo straniero scostando tutti si chinò sulla barella ne tolse via cautamente la coperta e sotto gli occhi di venerina raccappricciata scoprì un povero infermo quasi scheletrito che sbarrava nello sgomento certi occhi enormi d'un così limpido azzurro che parevano quasi di vetro tra la squallida magrezza del volto su cui la barba era rispuntata poi con materna cura lo sollevò come un bambino e lo pose a giacere sul letto via 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 tutti via tutti ordinò don pietro lasciamoli soli adesso per voi figlioli penserà il capitano del hammerfest e richiuse l'uscio aggiunse rivolto alla nipote vedi poi dici che non siamo fortunati un vapore ogni morte di papa ma quell'uno che arriva è la manna ringraziamo dio ma chi è si può sapere che è avvenuto domandò di nuovo venerina e don paranza niente un marinaio malato di tifo agli estremi il capitano ma visto questa bella faccia di minchione e ha detto guarda voglio farti un regaluccio bravuomo se quel poveraccio moriva in viaggio finiva in bocca a un pesce cane invece è voluto arrivare fino a porto empedocle perché sapeva che c'era pietro milio pesce somaro basta andrò oggi stesso a girgenti per trovargli posto all'ospedale passo prima da tua zia donna rosolina voglio sperare che mi farà la grazia di tenerti compagnia finché io non ritornerò da girgenti speriamo che per questa sera tutto sia finito aspetta oh devo dire riaprì l'uscio e rivolse qualche frase in francese a quel giovane straniero che chinò più volte il capo in risposta poi uscendo soggiunse alla nipote mi raccomando te ne starai di là in camera tua vado e torno con tua zia peristrada alla gente che gli domandava notizie seguitò a rispondere senza nemmeno voltarsi pesca pesca tricheco forzando la consegna della serva si introdusse in casa di donna rosolina la trovò in gonnella e camicia con le magre braccia nude e un asciugamani sulle spallucce ossute che si apparecchiava il latte di crusca per lavarsi la faccia maledizione strillò la zittellona 54enne riparandosi di un balzo dietro la cortina chi entra che modo agli occhi chiusi agli occhi chiusi protestò pietro miglio non guardo le vostre bellezze subito voltatevi ordinò donna rosolina non pietro obbedì e poco dopo udì l'uscio della camera sbatacchiare furiosamente attraverso quell'uscio allora egli nell'arroccio che gli era accaduto pregandolo di far presto impossibile lei donna rosolina uscir di casa a quell'ora impossibile caso eccezionale sì ma quel malato era vecchio o giovane santo nome di dio gemette don pietro alla vostra età dite sul serio né vecchio né giovane è moribondo sbrigatevi ah sì prima che donna rosolina si risolvesse a licenziarsi dalla propria immagine nello specchio dovete passare più di un'ora si presentò alla fine tutta aggeggiata come una bertuccia vestita l'ampio sciaglia indiano con la frangia fino a terra tenuto sul seno da un gran fermaglio d'oro smaltato con pendagli a lagrimoni grossi orecchini agli orecchi la fronte simmetricamente virgolata da certi mezzi riccetti unti da non si sa quale manteca e tinte le guance e le labbra eccomi eccomi e gli occhietti lupigni guarniti di lunghissime ciglia la poleggiando chiesero a don pietro ammirazione e gratitudine per quell'abbigliamento straordinariamente sollecito ben altro un tempo quegli occhi avevano chiesto a don pietro ma questi pietro di nome pietra di fatto trovarono venerina su tutte le furie quel giovane straniero si era rischiato a picchiare all'uscio della camera dove la sarà chiusa e chissà che cosa le aveva bestemmiato nella sua lingua poi se n'era andato pazienza pazienza fino a questa sera sbuffò don paranza ora scappa girgenti di un po lui il malato si è sentito tutte e tre entrarono pian pianino per vederlo restarono trattenendo il fiato presso la soglia pareva morto oddio gemette donna rosolina io ho paura non ci resisto venesterete di là tutte e due disse don pietro di tanto in tanto vi affaccerete qua all'uscio per vedere come sta tirasse almeno avanti ancora un paio di giorni ma mi par proprio cazzegna ad andarsene e non mi mancherebbe altro ah che bei guadagni che bei guadagni mi dà la norvegia basta lasciatemi scappare donna rosolina lo acchiappò per un braccio dite un po è turco o cristiano turco turco non si confessa rispose in fretta don pietro mamma mia scomunicato esclamò la zittellona segnandosi con una mano e tendendo l'altra per portarsi via venerina fuori di quella camera sempre così ospirò poi nella camera della nipote alludendo a don pietro che già se n'era andato sempre con la testa tra le nuvole ah se avesse avuto giudizio e qui donna rosolina che toglieva ogni volta pretesto delle continue disgrazie di don paranza per parlare con mille reticenze e sospiri del suo mancato matrimonio anche in quest'ultima volle vedere la mano di dio il castigo il castigo di una colpa remota in lui quella di non aver preso lei in moglie venerina pareva attentissima alle parole della zia pensava invece assorta con un senso di pauroso smarrimento a quell'infelice che moriva là solo abbandonato lontano dal suo paese dove forse moglie e figliuoli lo aspettavano e a un certo punto propose la zia ad andare a vedere come stesse andarono strette l'una all'altra in punta di piedi e si fermarono poco oltre la soglia della camera sportendo il capo a guardare sul letto l'infermo teneva gli occhi chiusi pareva un cristo di cera deposto dalla croce dormiva o era morto si fecero un po più avanti ma a lieve rumore l'infermo chiuse gli occhi quei grandi occhi celesti attoniti le due donne si strinsero via più tra loro poi vedendo sollevare una mano e far cenno di parlare scapparono via con un grido a rinchiudersi in cucina sul tardi sentendo il campanello della porta corsero ad aprire ma invece di don pietro si videro davanti quel giovane straniero della mattina la zittellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo ma venerina coraggiosamente lo accompagnò nella camera dell'infermo già quasi al buio acceso una candela la porta allo straniero che la ringraziò chinando il capo con un mesto sorriso poi stette a guardare afflitta vite che egli si chinava su quel letto e posava lieve una mano sulla fronte dell'infermo sentì che lo chiamava con dolcezza clean clean ma era il nome quello o una parola affettuosa l'infermo guardava negli occhi il compagno come se non lo riconoscesse e allora ella vide il corpo gigantesco di quel giovane marinaio sussultare lo sentì piangere curvo sul letto e parlare angosciosamente tra il pianto in una lingua ignota vennero anche a lei le lacrime agli occhi poi lo straniero voltandosi le fece segno che voleva scrivere qualcosa e la chinò al capo per significargli che aveva compreso e corse a prendergli lo corrente quando egli ebbe finito le consegnò la lettera e una borsetta venerina non comprese le parole che gli le disse ma comprese bene dai gesti e dall'espressione del volto che le raccomandava il povero compagno dove poi chinarsi di nuovo sul letto a baciare più volte in fronte l'infermo poi andare via in fretta con un fazzoletto sulla bocca per soffocare i singozi irrompenti donna rosolina poco dopo tutta impaurita sporse il capo dall'uscio e vide venerina che se ne stava seduta lì come se nulla fosse assorta con gli occhi lagrimosi la chiamò e col gesto le disse che fai sei matta venerina le mostrò la lettera e la borsetta che teneva ancora in mano e le accennò ad entrare non c'era più da aver paura e narrò a bassa voce la scena commovente tra i due compagni e la pregò che sedesse anche lei a vegliare quel poveretto che moriva abbandonato al silenzio della sera sopravvenuta sono ad un tratto acuto lungo straziante il fischio d'una sirena come un grido umano venerina guardò la zia poi l'infermo sul letto avvolto nell'ombra e disse piano se ne vanno lo salutano zio come si dice bestia in francese pietro miglio che stava lavandosi in cucina si voltò con la faccia grondante a guardare la nipote perché vorresti chiamarmi in francese ti dice bette figlia mia bette bette e dimmelo forte sai altro che bestia si meritava ad essere chiamato da circa due mesi teneva in casa e cibava come un pollastro col marinaio piovutogli dal cielo a girzenti manco a dirlo non aveva potuto trovare di posto all'ospedale poteva buttarlo in mezzo alla strada aveva scritto al console di palermo ma sì il console gli aveva risposto che desse ricetto e cura al marinaio del hammerfest fin tanto che esso non fosse guarito o nel caso che fosse morto gli desse sepoltura per bene che delle spese poi avrebbe avuto il rimborso che genio quel console come se lui pietro miglio potesse anticipare spese e dare alloggio ai malati come dove per l'alloggio sì aveva ceduto all'infermo il suo letto e lui a rompersi le ossa sul divanaccio sgangherato che gli cacciava tra le costole le molle sconnesse così che ogni notte sognava di giacer lungo disteso sulle vette di una giocaia di monti ma per la cura poteva andare dal farmacista dal droghiere dal macellaio a prender roba a credito dicendo che la norvegia avrebbe poi pagato lì boghe e cefaletti il giorno e gronghi la sera quando ne pescava e se no niente eppure quel povero diavolo era riuscito a non morire doveva essere a prova di bomba se non ci aveva potuto neanche il medico del paese che aveva tanto buon cuore e tanta carità di prossimo da ammazzare almeno un concittadino al giorno non diceva così perché in fondo volesse male a quel povero straniero no ma porco diavolo esclamava don pietro chi più poveretto di me manco male che fra pochi giorni si sarebbe liberato il norvegese che gli chiamava larso si chiamava lars clean era già entrato in convalescenza e di lì a una a due settimane in più si sarebbe potuto mettere in viaggio era tempo perché donna rosolina non voleva più saperne di far la guardia alla nipote protestava d'essere nubile anche lei e che non le pareva ben fatto che due donne stessero a tener compagnia a quell'uomo che la credeva veramente turco e perciò fuori della grazia di dio già sarà levato dal letto poteva muoversi e non si sa mai donna rosolina non aggiungeva in queste rimostranze a don pietro che il contegno di venerina verso il convalescente da un pezzo non le garbava più il convalescente pareva uscito dalla malattia mortale quasi di nuovo bambino il sorriso lo sguardo degli occhi limpidi avevano proprio un'espressione infantile era ancora magrissimo ma il volto gli si era rasserenato la pelle gli si ricoloriva leggermente e gli rispuntavano più biondi lievi aerei i capelli che gli erano caduti durante la malattia venerina nel vederlo così timido smarrito nella beatitudine di quel suo rinascere in un paese ignoto tra gente estranea provava per lui una tenerezza quasi materna ma tutta la loro conversazione si riduceva per venerina che non intendeva il francese tantomeno norvegese a una variazione di tono nel pronunciare il nome di lui clean così se gli si ricusava arricciando il naso scotendo la testa di prendere qualche medicina o qualche cibo e la pronunciava quel clean con voce cupa d'impero aggrottando le ciglia con gli occhi fermi severi come per dire obbedisci non ammetto capricci se poi egli in uno scatto di gioconda tenerezza vedendo se la passarda presso le tirava un po la veste col volto illuminato da un sorriso di gratitudine di simpatia venerina strascicava quel clean in una esclamazione di stupore e di rimprovero come se volesse dirgli sei matto ma lo stupore era finto il rimprovero dolce espressi l'uno e l'altro per ammanzare gli scrupoli di donna rosolina che assistendo a quelle scene sarebbe diventata di centomila colori se non avesse avuto sulle magre gote quella patina di rossetto anche lei venerina si sentiva quasi rinata avvezza a star sempre sola in quella casa povera e nuda senza cura intime senza affetti vivi da un pezzo sarà abbandonata un uggia invincibile a un tedio smanioso il cuore le si era come esterilito e la sterilità del sentimento si disfaceva in lei nella pigrizia più accidiosa lei stessa ora non avrebbe saputo spiegarsi perché le andasse tanto di sfaccendare per casa lietamente di levarsi per tempo ed acconciarsi miracoli miracoli esclamava don paranza rincasando la sera con gli attrezzi da pesca tutto fragrante di mare trovava ogni cosa in ordine la tavola parecchiata pronta la cena miracoli entrava nella camera dell'infermo fregandosi le mani bonsoir monsieur clean bonsoir buonasera rispondeva in italiano il convalescente sorridendo staccando e quasi incidendo con la pronuncia le due parole come come esclamava allora don pietro stupito guardando venerina che rideva e poi donna rosolina che stava seria seduta intozzata su di sé con le labbra strette e le palpe pregravi semi chiuse a poco a poco venerina era riuscita a insegnare allo straniero qualche frase italiana e un po di nomenclatura elementare con un mezzo semplicissimo gli indicava un oggetto nella camera e lo costringeva a ripeterne più e più volte il nome finché non lo pronunziasse correttamente bicchiere letto seggio la finestra e che risate quando egli sbagliava risate che diventavano fragorose se si accorgeva che la zittellona lagnosa nella sua putibonda severità per non cedere al contagio del riso si torturava le labbra massime quando l'inferno accompagnava con gesti comicissimi quelle parole staccate terigrafando così a segni le parti sostanziali del discorso che gli mancavano ma presto egli poteva anche dire aprire chiudere finestra prendere bicchiere e anche voglio andare a letto se non che imparato quel voglio cominciò a farne frequentissimo uso e l'impegno che metteva nel superare lo stento della pronunzia dava un più reciso tono di comando alla parola venerina ne rideva ma pensò ad attenuare quel tono insegnando all'infermo di premettere ogni volta a quel voglio un prego prego sì ma poiché egli non riusciva a pronunziare correttamente questa nuova parola quando voleva qualche cosa aspettava che venerina si voltasse a guardarlo e allora congiungeva le mani in segno di preghiera e quindi spiccicava più che mai imperioso e reciso il suo voglio la premessa di quel segno di preghiera era assolutamente necessaria ogni quel volta egli voleva presso di sé lo stipetto che il compagno gli aveva portato dal piroscafo il giorno in cui ne era sceso moribondo venerina glielo porgeva ogni volta di malanimo e senza il garbo consueto quella cassetta rappresentava per lui la patria lontana c'erano tutti i suoi ricordi e tante lettere e alcuni ritratti guardandolo obliquemente mentre gli reggeva qualcuna di quelle lettere o se ne stava astratto con gli occhi invagati venerina lo vedeva quasi sotto un altro aspetto come se fosse avvolto in un'altra aria che lo allontanasse da lei all'improvviso e notava tante particolarità della diversa natura di lui non mai prima notate quella cassetta in cui egli frugava con tanta insistenza ne richiamava davanti agli occhi l'immagine di quell'altro marinaio che lo aveva sollevato dalla barella come un bambino per deporlo sul letto lì e poi se n'era andato piangendo ed ella si era presa tanta cura di quell'abbandonato chi era egli donde veniva quali ricordi custodiva con tanto amore in quella cassetta venerina scrollava un tratto le spalle con un moto di dispetto dicendo a se stessa che me ne importa e lo lasciava lì solo nella camera appascersi di quei suoi segreti ricordi e si tirava con sé la zia che la seguiva stordita di quella risoluzione repentina che facciamo nulla ce ne andiamo venerina ricadeva ad un tratto in quei momenti nel suo tedio neghittoso inasprito da una sorda stizza o aggravato da una pena di indefiniti desideri la casa le appariva vuota di nuovo vuota di vita e sbuffava non voleva far nulla più nulla lars clean appena solo si sentiva come caduto in un altro mondo più luminoso di cui non conosceva che tre abitanti soli e una casa anzi una camera non si rendeva ragione di quei dispettucci di venerina non si rendeva ragione di nulla tendeva l'orecchio ai rumori della via si sforzava di intendere ma nessuna sensazione della vita di fuori riusciva a destare in lui un'immagine precisa la campana sì ma egli vedeva col pensiero una chiesa del suo remoto paese un fisco di serena ed egli vedeva l'hammerfest perduto nei mari lontani e come era restato una sera nel silenzio alla vista della luna nel vano della finestra era pure la stessa luna che gli tante volte in patria per mare aveva veduta ma gli era parso che lì in quel paese ignoto e la parlasse ai tetti di quelle case al campanile di quella chiesa quasi un altro linguaggio di luce e l'aveva guardata a lungo con un senso di sgomento angoscioso sentendo più acuta che mai la pena dell'abbandono il proprio isolamento viveva nel vago nell'indefinito come in una sfera vaporosa di sogni un giorno finalmente si accorse che sul coperchio della cassetta erano scritte col gesto tre parole bet 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 così domandò col gesto venerina che cosa volessero significare e venerina pronta tu bet arsklin restò a guardarla con gli occhi chiari ridenti e smarriti non comprendeva o meglio non sapeva credere che no no e con le mani le fece segno che avesse pietà di lui che tra poco doveva partire venerina crollò le spalle e lo salutò con la mano buon viaggio no no invece di nuovo il clean col capo e la chiamò a sé col gesto aprì la cassetta venetrasse una veduta fotografica di trondiem vi si vedeva tra gli alberi la maestosa cattedrale marmorea sovrastante tutti gli altri edifici col camposanto prossimo dove i fedeli superstiti si recano ogni sabato a ornare di fiori le tombe dei loro morti ella non riuscì a comprendere perché le mostrasse quella veduta ma mer di sì s'affannava a dirle il clean indicandole col dito il cimitero lì all'ombra del magnifico tempio anche lui come don pietro non era molto padrone della lingua francese che del resto non serviva affatto con venerina trasse allora dalla cassetta un'altra fotografia il ritratto ad una giovine subito venerina vi fisso agli occhi impallidendo ma il clean si pose accanto al volto il ritratto per far rivedere che quella giovine gli somigliava ma sir aggiunse questa volta venerina comprese e si larò tutta se poi quella sorella fosse fidanzata o già moglie del giovane marinaio che aveva recato la cassetta venerina non si curò più che tanto di indovinare le bastò sapere che l'arso era celibe sì ma non doveva ripartire fra pochi giorni era già in grado di uscire di casa e di recarsi a piedi sul tramonto al moro vecchio una frotta di monellacci scalzi stracciati alcuni inudinati abbrustiti dal sole seguiva ogni volta l'ars clean in quelle sue passeggiate lo spiavano cambiandosi ad alta voce osservazioni e commenti che presto si mutavano in lazzi egli stordito abbagliato nell'aria che grillava di luce si voltava ora verso l'uno ora verso l'altro sorridendo talora gli toccava di minacciare col bastone e più insolenti poi sedeva sul muricciolo delle banchina a guardare i bastimenti ormeggiati e il mare infiammato dal riflesso delle nuvole vespertine la gente si fermava a osservarlo mentre egli se ne stava in quell'atteggiamento trasmarrito ed estatico lo guardava come si guarda una gru o una cicogna stanca e sperduta discesa dall'alto dei cieli il berretto di pelo il pallore del volto e l'estrema biondezza della barba e dei capelli attiravano specialmente la curiosità egli alla fine se ne stancava e piano piano rincasava triste dalla lettera lasciatagli dal compagno insieme col denaro sapeva che l'hammerfest dopo il viaggio in america sarebbe ritornato a porto empedocle fra sei mesi erano trascorsi già tre volentieri si sarebbe rimbarcato sul suo piroscafo di ritorno volentieri si sarebbe riunito ai compagni ma come trattenersi altri tre mesi così senza più alcuna ragione nella casa che lo ospitava il milio aveva già scritto al console in palermo di fargli ottenere gratuitamente il rimpatrio che fare partire o attendere decise di consigliarsi con milio stesso una di quelle sere al ritorno dalla pesca dei gronghi venerina assistette dopo cena quel dialogo che voleva essere in francese tra lo zio e lo straniero dialogo vi sarebbe detto di verbio piuttosto a giudicare dalle violenze dei gesti ripetuti con esasperazione dall'uno e dall'altro venerina sospesa e costernata a un certo punto nel vedersi additata rabbiosamente dallo zio diventò di bragia e che parlavano dunque di lei a quel modo vergogna ansia dispetto le fecerò un tratto tale impeto dentro e appena e clean si ritirò salto su a domandare allo zio che c'entro io che avete detto di me di te niente rispose don pietro rosso e sbuffante dopo quella terribile fatica non è vero avete parlato di me ho capito benissimo e tu ti sei arrabbiato don pietro non si raccapezzava ancora che t'ha detto che t'ha inventato incalzò venerina tutta accesa vuole andarsene e tu lascialo andare non me ne importa nulla sai proprio nulla don paranza restò a guardare ancora un pezzo la nipote stordito con la bocca aperta sei matta o io all'improvviso si diede a girare per la stanza come se cercasse la via per scappare e agitando per aria le manacce spalmate che asino gridò che imbecille osso marrone a 78 anni mamma mia mamma mia si voltò di scatto a guardare venerina mettendosi le mani tra i capelli dimmi un po per questo mi hai domandato per dirlo a lui in francese caro bestia no non per te che hai capito di nuovo don pietro con la testa tra le mani si mise ad andare in qua in là per la stanza bestione somarone e dico poco ma quella bertuccia di tua zia che ha fatto qui ha dormito porco diavolo e tu e questo pezzo di aspetta aspetta che te l'aggiusto io ora stesso e in così dire si lanciò verso l'uscio della camera dove sarà chiuso il clean venerina gli si parò subito davanti no che fai zio ti giuro che egli non sa nulla ti giuro che tra me e lui non c'è stato mai nulla non hai inteso che se ne vuole andare don pietro restò come sospeso non capiva più nulla chi lui se ne vuole andare chi te l'ha detto ma il contrario al contrario non se ne vuole andare ma hai preso per una bestia sul serio io io te lo caccio via però ora stesso venerina lo trattenne di nuovo scoppiando questa volta in singhiozzi e buttandoglisi sul petto comparanza sentì mancarsi le gambe con la mano rimasta libera accennò il segno della croce in nome del padre del figliolo e dello spirito santo sospirò vieni qua vieni qua figlia mia andiamoci nella tua camera e ragioniamo con calma ci perdo la testa la trasse con sé nell'altra camera la fece sedere le porse il fazzoletto perché s'asciugasse gli occhi e cominciò a interrogarla paternamente trattanto l'ars clean che aveva udito dalla sua camera il diverbio tra lo zio e la nipote senza comprendere nulla apriva pian piano l'uscio e sporgeva il capo a guardare con l'uma in mano nella salita buia che era avvenuto intese solo i singhiozzi di venerina di là e se ne turbò profondamente perché quella lite e perché piangeva ella così il miglio gli aveva detto che non era possibile che gli stesse nella casa più oltre non c'era posto per lui e poi quella vecchia matta della zia sarà stancata e la nipote non poteva restare sola con uno straneo in casa difficoltà che gli non riusciva a penetrare ma tante altre cose da che usciva di casa gli sembravano strane in quel paese bisognava partire senza aspettare il piroscafo questo era certo e avrebbe perduto il posto di nostromo partire piangeva per questo la sua giovane amica infermiera fino a mezzanotte avanzata Lars Klein stette lì seduto sul letto a pensare a fantasticare gli pareva di vedere la sorella lontana la vedeva ah lei sola al mondo gli voleva bene ormai e anche quest'altra fanciulla qua possibile questa e tu vorresti chissà ogni qualvolta ritornava in patria la sorella gli ripeteva che volentieri avrebbe preferito non rivederlo mai più mai più in vita se egli in uno di quei suoi viaggi lontani si fosse innamorato di una buona ragazza e l'avesse sposata tanto strazio che dava il vederlo così svogliato della vita e rimesso anzi abbandonato alla discrezione della sorte esposto a tutte le vicende pronto alle più rischiose senza alcun ritegno d'affetto per sé come quella volta che attraversando l'oceano in tempesta sarà buttato dall'hammerfest per salvare un compagno sì era vero e senza alcun merito perché la sua vita per lui non aveva più prezzo ma lì ora possibile questo paesello di mare in sicilia così lontano lontano era dunque la meta assegnata dalla sorte alla sua vita era egli giunto senza alcun sospetto al suo destino per questo sarà malato fino a toccare la soglia della morte per riprendere lì la via di una nuova esistenza chissà e tu ti vuoi bene concludeva intanto di là don pietro dopo avere strappato a venerina che non riusciva a quietarsi le scarse in certe notizie che la aveva dello straniero e la confessione di quegli ingenui passatempi dove era nato quell'amore fino a quel punto sospeso in aria come un uccello sulle ali venerina sarà nascosta il volto con le mani ti vuoi bene ripete don pietro ci vuol tanto a dir di sì io non lo so rispose venerina tra due cinghiozzi e io invece lo so forbottò don paranza levandosi va va a letto ora e procura di dormire domani se mai ma guarda un po che nuova professione mi tocca adesso ad esercitare e scotendo il capo lanoso andò a buttarsi sul divanazzo sgangherato rimasta sola venerina tutta enfocata in volto con gli occhi sfavillanti sorrise poi si nascose di nuovo il volto con le mani se lo tenne stretto stretto così e andò a buttarsi sul letto vestita non lo sapeva davvero se lo amava ma intanto baciava e stringeva il guanciale del lettuccio stordita da quella scena imprevista a cui si era lasciata tirare per un malinteso dal suo amor proprio ferito non riusciva ancora bene a vedere chiaro in sé in ciò che era avvenuto un senso scottante di vergogna le impediva di rallegrarsi di quella spiegazione con lo zio forse desiderata inconsciamente dal suo cuore dopo tanti mesi di sospensione su un pensiero su un sentimento che non riuscivano quasi a posarsi sulla realtà ad affermarsi in qualche modo ora aveva detto di sì allo zio e certo avrebbe sentito un gran dolore se clean se ne fosse andato sentiva orrore del tedio mortale in cui sarebbe ricaduta sola sola nella casa vuota e silenziosa era perciò contenta che lo zio fosse ora con lei di là a pensare a escogitare il modo di vincere se fosse possibile tutte le difficoltà che avevano fino allora tenuto sospeso il suo sentimento non si potevano vincere quelle difficoltà e il clean pur lì presente le pareva tanto tanto lontano parlava una lingua che la non intendeva aveva nel cuore negli occhi un mondo remoto che la non indovinava neppure come fermarlo lì era possibile e poteva egli aver l'intenzione di fermarsi per lei tutta la vita fuori di quel suo mondo voleva sì restare ma fino all'arrivo del piroscopo dall'america intanto certo in patria nessun affetto vivo lo attirava perché altrimenti scampato per miracolo alla morte avrebbe pensato subito a rimpatriare se voleva aspettare era segno che anche lui doveva sentire chissà forse lo stesso affetto per lei così sospeso come smarrito nell'incertezza della sorte tra altri pensieri si dibatteva don pietro sul divanaccio che strideva con tutte le molle sconnesse le molle stridevano e don paranza sbuffava pazzi pazzi come hanno fatto a intendersi se l'uno non sa una parola della lingua dell'altra eppure sì signore si sono intesi miracoli della pazzia si amano si amano senza pensare che i cefali le boghe i gronghi dello zio bestione non possono dal mare assumersi la responsabilità e l'incarico di fare le spese del matrimonio e di mantenere una nuova famiglia meno male che io ma sì se padron di nica vorrà saperne domani domani si vedrà dormiamo faceva affaroni col suo vaporetto agostino di nica tanto che aveva pensato di allargare il suo commercio fino a tunisi e malta e a tale scopo aveva ordinato all'arsenale di palermo la costruzione di un altro vaporetto un po più grande che potesse servire anche al trasporto dei passeggeri forse seguitava a pensare don pietro un uomo come l'arso potrà servirgli conosce il francese meglio di me e l'inglese benone lupo di mare poi o come interprete o come marinaio purché me lo imbarchi e gli dia da vivere da mantenere onestamente la famiglia intanto venerina insegnerà a parlare da cristiano pare che faccia miracoli lei con la sua scuola non posso lasciarli più soli domani me lo porto con me da padron di nica e se la proposta è accettata e gli aspetterà se vuole ma venendosene con me ogni giorno alla pesca se non è accettata bisogna che parta subito subito senza remissione intanto dormiamo ma che dormire pareva che le punte delle molle sconnesse fossero diventate più irte quella notte compenetrate delle difficoltà fra cui don paranza si dibatteva da 15 giorni l'ars clean seguiva mattina e sera il milio alla pesca usciva di casa con lui vi ritornava con lui padron di nica con molti se con molti ma aveva accettato la proposta presentategli dal milio come una vera fortuna per lui e le conseguenze il vaporetto nuovo sarebbe stato pronto fra un mese al più e lui il clean vi si sarebbe imbarcato in qualità di interprete la prova per il primo mese venerina aveva fatto intendere bene allo zio e clean non sarà ancora spiegato con lei chiaramente e gli aveva perciò raccomandato di comportarsi con la massima delicatezza tirandolo prima con ogni circospezione a parlare a spiegarsi il povero don paranza e sbuffando più che mai nel cresciuto in pizzo si era recato da prima solo dal di nica e ottenuto il posto era ritornato a casa ad offrirlo al clean soggiungendogli nel suo barbaro francese che se voleva restare come gliene aveva espresso il desiderio se voleva trattenersi fino al ritorno dell'hammerfest doveva essere a questo patto che lavorasse il posto ecco glielo aveva procurato lui quando poi il piroscofo sarebbe arrivato dall'america ne avrebbe avuti due di posti e allora la sua scelta o questo quello quale gli sarebbe convenuto di più intanto nell'attesa bisognava che andasse con lui ogni giorno alla pesca alla proposta il clean era rimasto perplesso era apparso chiaro che la scena di quella sera tra zio e nipote era avvenuta proprio per la sua prossima partenza e che era stato lui perciò la cagione del pianto della sua cara infermiera accettare dunque e compromettersi sarebbe stato tutt'uno ma come rifiutare quel beneficio dopo le tante cure e le premure affettuose di lei quel beneficio offerto in quel modo che non lo legava ancora per nulla che lo lasciava libero di scegliere libero dimostrarsi o no grato di quanto gli era stato fatto ogni mattina levandosi dal divanaccio con le ossa indolenzite don pietro si esortava così coraggio don paranza alla doppia pesca e preparava gli attrezzi le due canne con le lenze una per sé l'altra per l'arso i barattoli dell'esca gli ami di ricambio ecco sì per i pesci era ben munito ma doveva trovare lo corrente per l'altra pesca quella al marito per la nipote chi glielo dava l'amo per tirarlo a parlare si fermava in mezzo alla stanza con le labbra strette gli occhi sbarrati poi scoteva in aria le mani ed esclamava l'amo francese eh già perché gli toccava per giunta di muovergli nel discorso in francese quando non avrebbe saputo dirglielo neppure in siciliano monsieur mani es e poi poteva spiattellargli chiaro e tondo che quella scioccona sarà innamorata o incapricciata di lui dalla norvegia o dal console di palermo avrebbe avuto il rimborso delle spese probabilmente ma quest'altro guaio qui chi lo avrebbe ricompensato lui lui stesso porco diavolo ma attizzato il fuoco in casa biscotti si bruci quell'aria da mamma lucco da innocente piovuto dal cielo glielo avrebbe fatta smettere lui e lì sulla scogliera del porto mentre riforniva gli ami di nuova esca si voltava a guardare l'arso se ne stava seduto su un masso poco discosto dritto sulla vita con gli occhi chiari fissi al sughero della lenza che galleggiava sull'aspro azzurro dell'acqua luccicante da guzzi tremolini uè messie clean uè guardare sì lo guardava ma lo vedeva poi davvero quel sughero pareva allucchito il clean all'esclamazione si riscoteva come da un sogno e gli sorrideva poi tirava pian piano dall'acqua la lenza credendo che il milio lo avesse richiamato per questo e riforniva anche lui gli ami chissà da quanto tempo disarmati ah così la pesca andava benone anche egli don paranza pensando e scogitando il modo e la maniera di entrare a parlargli di quella faccenda così difficile e delicata si lasciava intanto mangiare l'esca dai pesci si distraeva non vedeva più il sughero non vedeva più il mare e solo rientrava in sé quando l'acqua tra gli scogli vicini dava un più forte di succhio tizzito tirava allora la lenza e gli veniva la tentazione di sbattergliela in faccia a quell'ingrato ma più ira gli suscitava l'esclamazione che il clean aveva imparata da lui e ripeteva spesso sorridendo nel sollevare a sua volta la canna porco diavolo don paranza dimenticandosi in quei momenti di parlargli in francese prorompeva ma porco diavolo lo dico sul serio io tu ridi minchione che te ne importa no no così non poteva durare non conchiudeva nulla non solo ma si guastava anche il fegato se la sbrighino loro se vogliono e lo disse una di quelle sere alla nipote rincasando dalla pesca non si aspettava che venerina dovesse accogliere l'irosa dichiarazione dell'insipienza di lui con uno scoppio di risa tutta rossa e raggiante in viso povero zio ridi ma sì fatto venerina si nascose il volto con le mani accennando più volte di sì col capo vivacemente non paranza pur contento in cuor suo alleggerito da quel peso quando meno se l'aspettava montò su tutte le furie come e non mi dici niente e mi tieni lì per tanti giorni alla tortura e lui anche lui muto come un pesce venerina sollevò la faccia dalle mani non t'ha saputo dire nulla neanche oggi pesce ti dico baccalà gridò don paranza al colmo della stizza ho il fegato grosso così dalla bile di tutti questi giorni si sarà vergognato disse venerina cercando di scusarlo vergognato un uomo esclamò don pietro ha fatto ridere alle mie spalle tutti i pesci del mare ha fatto ridere dov'è chiamalo fammelo dire questa sera stessa non basta che l'abbia detto a te ma senza con questi occhiacci gli raccomandò venerina sorridendo don paranza si placò scosse il testone lanoso e borbottò nella barba sono proprio da tu lo sai meglio di me di un po come hai fatto senza francese venerina arrossì sollevò appena le spalle e negli occhioni le sfavillarono così disse con ingenua malizia e quando oggi stesso quando siete tornati a mezzogiorno dopo il desinare egli mi preso una mano io basta basta rontano don paranza che in vita sua non aveva mai fatto all'amore è pronta la cena ora gli parlo io venerina gli si raccomandò di nuovo con gli occhi e scappo via don pietro entrò nella camera di clean questi se ne stava con la fronte appoggiata ai vetri del balcone a guardar fuori ma non vedeva nulla la piazzetta lì davanti a quell'ora era deserta e buia i lampioncini a petrolio quella sera riposavano perché della illuminazione del borgo era incaricata la luna sentendo aprir l'uscio il clean si voltò di scatto chissà a che cosa stava pensando don paranza si piantò in mezzo alla camera con le gambe aperte tentennando il capo avrebbe voluto fargli un predicozzo da vecchio zio brontolone ma sentì subito la difficoltà di un discorso in francese con sentaneo all'aria burbera a cui già aveva composto la faccia e l'atteggiamento preso frenò a stento un solennissimo sbuffo di impazienza e cominciò messer clean ma niè smadit il clean sorrise timido smarrito e chinò leggermente il capo più volte qui riprese don paranza e va bene tese gli indici delle mani e li accostò ripetutamente l'uno all'altro per significare marito e moglie uniti vous êtes maniès mariage oui si vous voulez riprese clean aprendo le mani come se non fosse ben certo del consenso oh per me capò don pietro si riprese subito tre re messi clean tre re se fette donne moi le main restrinsero la mano e così il matrimonio fu concluso ma il clean rimase stordito sorrideva sì d'un sorriso timido nell'impaccio della strana situazione in cui si era cacciato senza una volontà ben definita gli piaceva sì quella bruna siciliana così vivace con quegli occhi di sole ne era gratissimo dell'amorosa assistenza e doveva la vita sì ma sua moglie davvero già concluso mantenente riprese don paranza nel suo francese je vous prie messier clean chercher chercher da prendere notre langue je vous prie penelina venne a picchiare all'uscio con le nocchie delle dita a cena quella prima sera a tavola provarono tutti e tre un grandissimo imbarazzo il clean pareva caduto dalle nuvole penelina col volto in fiamme e confusa non riusciva a guardare né il fidanzato né lo zio gli occhi le si intorbidavano incontrando quelli del clean e si abbassavano subito sorrideva per rispondere al sorriso di lui non meno impacciato ma volentieri sarebbe scappata a chiudersi sola sola in camera a buttarsi sul letto per piangere sì senza saper perché se non hai pazzia questa non c'hai più pazzi al mondo pensava tra sé dal canto suo don paranza aggrondato tra le spine anche lui ingozzando a stento la magra cena ma poi prima il clean con qualche ritegno lo pregò di tradurre per venelina un pensiero gentile e gli non avrebbe saputo manifestarle quindi venelina timida e accesa lo pregò di ringraziarlo e di dirgli che cosa domandò don paranza sbarrando tanto d'occhi e poiché dopo quel primo scambio di frasi la conversazione tra i due fidanzati avrebbe voluto continuare attraverso a lui egli battendo le pugna sulla tavola o insomma esclamò che figura ci faccio io insegnatevi tra voi si alzò fra le rise dei due giovani e andò a fumarsi la pipa sul divanaccio prontolando il suo porco diavolo nel barbone ranoso il vaporetto del Dinica compiva l'ultima notte di maggio il suo terzo viaggio da Tunisi fra un'ora verso l'alba il vaporetto sarebbe approdato al molo vecchio a bordo dormivano tutti tranne il timoniare a poppa e il secondo di guardia sul ponte di comando il clean aveva lasciato la sua cucetta e da un pezzo sul cassero se ne stava a mirare la luna declinante di tra le griselle del sartiame che vibrava tutto alle scosse cadenzate della macchina provava un senso dopprimenti angustia lì su quel guscio di noce in quel mare chiuso e anche sì anche la luna gli pareva più piccola come se egli la guardasse dalla lontananza di quel suo esilio mentre la pariva grande la sull'oceano di tra le sartie del Hammerfest dove qualcuno dei suoi compagni forse in quel punto la guardava lì egli con tutto il cuore era vicino chi era di guardia a quell'ora sul Hammerfest chiudeva gli occhi e li rivedeva ad uno ad uno i suoi compagni li vedeva salire dai boccaporti vedeva vedeva col pensiero il suo piroscafo come se egli proprio vi fosse bianco di salsedine maestoso e tutto sonante udiva lo squillo della campana di bordo respirava l'odore particolare della sua antica cuccetta si chiudeva a pensare a fantasticare poi riapriva gli occhi e allora non già quello che aveva veduto ricordando e fantasticando gli sembrava un sogno ma quel mare lì quel cielo quel vaporetto e la sua presente vita e una tristezza profonda lo invadeva uno smanioso avvirimento i suoi nuovi compagni non lo amavano non lo comprendevano né volevano comprenderlo lo deridevano per il suo modo di pronunziare quelle poche parole di italiano che già era riuscito a imparare e lui per non far peggio doveva costringere la sua stizza segreta a sorridere di quel volgare e stupido dileggio ma pazienza l'avrebbero smesso col tempo da poco a poco egli con l'uso continuo e l'aiuto di venerina avrebbe imparato a parlare correttamente ormai era detto di in quel borgo di su quel guscio e per quel mare tutta la vita incerto come si sentiva ancora nella nuova esistenza non riusciva a immaginare nulla di preciso per l'avvenire può crescere l'albero nell'aria se ancora scarse e non ben ferme alle radici nella terra ma questo era certo che lì ormai e per sempre la sorte lo aveva trapiantato l'hammerfest che doveva ritornare dall'america tra sei mesi non era più ritornato la sorella a cui egli aveva scritto per dar le notizie della sua malattia mortale e annunciarle il fidanzamento gli aveva risposto da Trondheim con una lunga lettera piena d'angoscia e di meraviglia e annunciato che l'hammerfest a New York aveva ricevuto un controordine ed era stato noleggiato per un viaggio nell'India come le aveva scritto il marito chissà dunque se egli lo avrebbe più riveduto e la sorella si alzò per sottrarsi all'oppressione di quei pensieri aggiornava le stelle erano morte nel cielo crepuscolare la luna smoriva poco a poco ecco laggiù ancora accesa la lanterna verde del molo Don Paranza e Venerina aspettavano l'arrivo del vaporetto dalla banchina nei due giorni che il clean stava a porto in pedocle Don Pietro non si recava alla pesca gli toccava di far la guardia ai fidanzati poiché quella scimunita di Donna Rosolina non si era voluta prestare neanche a questo prima perché Nubile del suo pudore si sarebbe scottato al fuoco dell'amore di quei due poi perché quel forestiere le incuteva soggezione avete paura che vi mangi le gridava Don Paranza siete un mucchio d'ossa volete capirlo non voleva capirlo Donna Rosolina e non si era voluta disfare di nulla in quell'occasione neppure ed un anellino fra tanti che ne aveva per dimostrare in qualche modo il suo compiacimento alla nipote poi poi diceva e che pure per forza un giorno o l'altro Venerina sarebbe stata l'erede di tutto quanto ella possedeva della casa del poderetto lassù sotto il monte Giocafa degli ori e della mobilia e anche di quelle otto coperte di lana che l'aveva intrecciate con le sue proprie mani nella speranza non ancora svanita di schiacciarvi sotto un povero marito Don Paranza era indignato di quella tirchieria ma non voleva che Venerina mancasse di rispetto alla zia è sorella di tua madre io poi me ne devo andare prima di lei per legge di natura e da me non hai nulla da sperare lei ti resterà e bisogna che te la tenga cara e farai fare un po' di corte da tuo marito e vedrai chi ti gioverà nel resto per quel poco che il signore può badare a uno sciocco come me stai sicura che ci aiuterà erano venuti infatti dal consolato della Norvegia coi pochi quattrinucci per il mantenimento prestato al clean aveva potuto così comprare alcuni modesti mobili i più indispensabili per metter su alla meglio la casa degli sposi erano anche arrivate da Trondiem le carte del clean Venerina era così lieta e impaziente quella mattina di mostrare al fidanzato la loro nuova casetta già messa in ordine ma poco dopo quando il vaporetto finalmente si è formeggiato nel molo e il clean pote scenderne quella sua gioia fu improvvisamente turbata dalla stizza udendo il saluto che gli altri marinai rivolgevano quasi miegolando al suo fidanzato bonchon bonchon brutti imbecilli disse i tre denti voltandosi a fulminarli con gli occhi il clean sorrideva e Venerina si stizia allora maggiormente non sei buono di rompere il grugno a qualcuno di un po' ti lasci canzonare così sorridendo da questi mascalzoni e via disse Don Paranza non vedi che scherzano tra compagni e io non voglio rimbeccò Venerina accesa di sdegno scherzino tra loro e non stupidamente con un forestiere che non può loro rispondere per le rime si sentiva quasi quasi messa in berlina anche lei il clean la guardava e quegli sguardi fieri gli parevano vampati di passione per lui gli piaceva quello sdegno ma ogni qual volta gli veniva di manifestarle ciò che sentiva o di confidarle qualcosa gli pareva d'urtare contro un muro e taceva e sorrideva senza intendere che quella bontà sorridente in certi casi non poteva piacere a Venerina era colpa sua intanto se gli altri erano maleducati se egli ancora non poteva uscire per le strade che subito una flotta di monellacci lo attornasse minacciava e faceva peggio quelli si sbandavano con grida e lazzi e rumori sguaiati Venerina ne era furibonda storpiane qualcuno dà una buona lezione è possibile che tu debba diventare lo zimbello del paese bei consigli sbuffava Don Pietro invece di raccomandargli la prudenza con questi cani il bastone ci vuole il bastone smetteranno smetteranno sta quieta appena Lars avrà imparato Lars gridava Venerina infuriandosi ora anche contro lo zio che chiamava a quel modo il fidanzato come tutto il paese ma è lo stesso sospirava seccato Don Pietro alzando le spalle cambiati codesto nome ripigliava Venerina esasperata rivolta al clean ma è il piacere sentirsi chiamare la moglie del Larso e non ti chiamano adesso la nipote di Don Paranza che male c'è lui Larso e io Paranza allegramente non rideva più ora Venerina nell'insegnare al fidanzato la propria lingua certe bili anzi ci pigliava vedi gli diceva ti sa che ti burlano se dici così chiaro chiaro ti vuol tanto Maria Santissima il povero clean che poteva fare sorrideva mansueto e si provava a pronunziare meglio ma poi dopo due giorni doveva ripartire e di quelle lezioni così spesso interrotte non riusciva a approfittarne quanto Venerina avrebbe desiderato lei come l'uovo caro mio questi dispettucci parevano puerili a Don Pietro condannato a far la guardia e se ne infastidiva e sua presenza intanto impacciava peggio il clean che non riusciva ancora a comprendere perché ci fosse bisogno di lui non era egli il fidanzato di Venerina non poteva uscire solo con lei a passeggiare lassù sull'altipiano in campagna lo aveva proposto un giorno ma dalla stessa Venerina si era sentito domandare sei pazzo? perché? qua i fidanzati non si lasciano soli neppure per un momento ci vuole il lampione sbuffava Don Pietro il clean si avvidiva di tutte queste costrizioni che gli ammiserivano lo spirito e lo intontivano cominciava a sentire una sorda irritazione un segreto rodio nel vedersi trattato in quel paese e considerato quasi come uno stupido e temeva di stupidirsi davvero ma che non fosse stupido lo sapeva bene il padron di Nica dal modo con cui egli disimpegnava le commissioni e gli affari con quei ladri agenti di Tunisi e di Malta non voleva dirlo al solito non per negare il merito e la lode ma per le conseguenze della lode ecco credette tuttavia di dimostrargli largamente quanto fosse contento di lui con l'accordargli dieci giorni di licenza nell'occasione del matrimonio pochi dieci giorni ma bastano caro mio disse a Don Pietro che se ne mostrava malcontento vedrai in dieci giorni che bel figliolo maschio ti mettono su potrei al massimo concedere che rimbarcandosi si porti la sposa a Tunisi a Malta per un viaggetto di nozze è giovane serio mi fido ma non potrei di più piritò alla proposta di Don Pietro di far da testimonio alle nozze non per quel buon giovane capirai ma se dioliberi mi ci provassi una volta non farai più altro in vita mia niente niente caro Pietro manderò alla sposa un regaluccio in considerazione della nostra antica amicizia ma non lo dirà nessuno mi raccomando al canto suo la zia Don Rosolina si strizzò si strizzò in petto il buon cuore che Dio le aveva dato e venne fuori con un altro regaluccio a Venerina un paio d'orecchine a pendaglio del 1500 faceva però la finezza di offrire agli sposi per quei dieci giorni di luna di miele la sua campagna sotto il monte Cioccafa purché la mobilia mi raccomando camminavano sole quelle quattro sediole sgangherate a chiamarve col frullo delle dita dai tanti tarli che le popolavano e il tanfo di l'inchiuso in quella decrepita stamberga perduta tra gli alberi lassù era insopportabile subito Venerina arrivata in carrozza con lo sposo e i due zii dopo la celebrazione del matrimonio corse a spalancare tutti i balconi e le finestre le tende le tende i cortinaggi strillava donna rosolina provandosi a correre dietro l'impetuosa nipote lasci che prendono un po' d'aria guardi guardi come respirano che delizia sì ma con la luce perdono il colore non sono di broccato zia quell'oretta passata lassù con gli sfoci fu un vero supplizio per donna rosolina soffrì nel vedere toccare questo o quell'oggetto come se si fosse sentita strappare quei mezzi ricci unti di tintura che le virgolavano la fronte soffrì nel vedere entrare coi pesanti scarponi ferrati la famiglia del garzone per porgere gli omaggi agli sposini stava quel garzone a guardia del podere e abitava con la famiglia nel cortile acciottolato della villa con la cisterna in mezzo in una stanzaccia buia casa e stalla insieme perplesso se avesse fatto bene o male recava in dono un paniere di frutta fresche larsklin contemplava stupito quegli esseri umani che gli parevano di un altro mondo vestiti a quel modo così anneriti dal sole gli parevano siffattamente strani e diversi da lui che si meravigliava poi nel veder loro battere le palpebre come egli le batteva e muovere le labbra come egli le moveva ma che dicevano sorridendo la moglie del garzone annunciava che uno dei cinque figlioli il secondo aveva le febbre da due mesi e se ne stava lì sullo strame come un morticino non si riconosce più figlio mio sorrideva non perché non ne sentisse pena ma per non mostrare la propria afflizione mentre i padroni erano in festa verrò a vederlo le promise venerina non si che dice vocenza esclamò angustiata la contadina si lasci stare noi poveretti vocenza goda che bello sposo si crede che non ho il coraggio di guardarlo e me domandò don paranza non sono bello io e sono pure sposo di donna rosolina due coppie zitto là grittò questa sentendosi tutta rimescolare non voglio che si dicano neppure per il scherzo certe cose venerina rideva come una matta sul serio sul serio protestava don pietro e insistette tanto su quel brutto scherzo per far festa alla nipote che la zittellona non volle tornarsene sola con lui in carrozza al paese ordinò al garzone che montasse in cassetta accanto ai cocchiere le malelingue non si sa mai con un mattaccio come voi ah cara donna rosolina che ne volete più di me oramai non posso farvi più nulla io le disse don pietro in carrozza di ritorno scotendo la testa e soffiando per il naso un gran sospiro come se si sgonfiasse di tutta quell'allegria dimostrata alla nipote vorrei aver fatto felice quella povera figliuola mi pareva di aver raggiunto ormai lo scopo della sua lunga travagliata scombinata esistenza che gli restava più da fare ormai mettersi a disposizione della morte con la coscienza tranquilla sì ma angosciata altri quattro giorni di noia e poi lì la carrozza passava vicino al camposanto aereo sull'altipiano che rosseggiava nei fuochi del tramonto lì e che ho concluso nonna rosolina accanto a lui con le labbra puntite e gli occhi fissi acuti si sforzava ad immaginare che cosa facessero in quel momento gli sposi rimasti soli e dominava le smanie da cui si sentiva prendere e che si traducevano in acre stizza contro quello maccio ormai vecchio che le stava a fianco si voltò a guardarlo lo vide con gli occhi chiusi credette che dormisse su su a momenti siamo arrivati non Pietro riaprì gli occhi rossi di pianto contenuto e pronto l'ho lo so sposina penso ai gronghi di questa sera chi me li cucina superato il primo impaccio vivissimo della improvvisa intrinsechezza più che ogni altra intima con un uomo che le pareva ancora quasi piovuto dal cielo venerina prese a proteggere e a condurre per mano come un bambino il marito incantato dagli spettacoli che gli offriva la campagna quella natura per lui così strana e quasi violenta si fermava a contemplare a lungo certi tronchi enormi stravolti dolivi pieni di gloppi di sproni di giunture storpie nodose e non rifiniva ad esclamare il sole il sole come se in quei tronchi vedesse viva inespressa tutta quella cociante rabbia solare da cui si sentiva stordito e quasi ubriacato lo vedeva dappertutto il sole e specialmente negli occhi e nelle labbra ardenti e succhiose di venerina che rideva di quelle sue meraviglie e lo trascinava via per mostrargli altre cose che le parevano più degne da essere vedute la grotta del cioccafa per esempio ma egli s'arrestava quando ella se l'aspettava meno davanti a certe cose per lei così comuni ebbene picchidindia che stai a guardare proprio un fanciullo le pareva e gli scoppiava a ridere in faccia dopo averlo guardato un po' così allocchito per niente e lo scoteva gli soffiava sugli occhi per rompere quello stupore che talvolta lo rendeva attonito svegliati svegliati allora egli sorrideva l'abbracciava e si lasciava condurre abbandonato a lei come un cieco ricadeva sempre a parlarle con le stesse frasi d'orrore della famiglia del garzone a cui entrambi avevano fatto la visita promessa non si poteva dar pace che quella gente abitasse lì in quella stanzaccia che era divenuta quasi una grotta fumida e fetida e in vano Venerina gli ripeteva ma se toglie loro l'asino il porcellino e le galline dalla camera non vi possono più dormire in pace devono stare lì tutti insieme fanno una famiglia sola orribile orribile esclamava egli agitando in aria le mani e quel povero ragazzo lì sul pagliericcio per terra ingiallito dalle febbre continue e quasi scheletrito lo curavano con certi decotti infallibili sarebbe guarito come erano guariti gli altri e intanto il poverino che pena se ne stava rosicchiare svogliato un tozzo di pan nero non ci pensare gli diceva Venerina che pur se ne affliggeva ma non tanto sapendo che la povera gente vive così credeva che dovesse saperlo anche lui il marito e perciò nel vederlo così afflitto sempre più si raffermava nell'idea che gli fosse di una bontà non comune quasi morbosa e questo le dispiaceva passarono presto quei dieci giorni in campagna ritornati in paese Venerina accompagnò fino al vaporetto il marito ma non volle imbarcarsi con lui per il viaggio di nozze concesso dal Dinica Don Pietro ve la spingeva vedrai Tunisi che quei cari nostri fratelli francesi sempre aggraziati ci hanno presa di furto vedrai Malta dove tuo zio bestione andò a rovinarsi magari potessi venirci anch'io vedresti di che cuore mi schiaffeggerai se mi incontrassi con me stesso per le vie della valletta come ero allora giovane patriota imbecilla no no Venerina non volle saperne il mare le faceva paura e poi si vergognava in mezzo a tutti quegli uomini e non sei con tuo marito insistiva Don Pietro tutte così le nostre donne non debbono far mai piacere ai loro uomini tu che ne dici domandava Clean non diceva nulla lui guardava Venerina col desiderio di averlo con sé ma non voleva che la facesse un sacrificio o che avesse veramente a soffrire del viaggio ho capito concluse Don Peranza sei un gran babbalacchio Lars non comprese la parola siciliana dello zio ma sorrise vedendo riderne tanto Venerina e poco dopo partì solo appena si fu allontanato dal porto dopo gli ultimi saluti col fazzoletto alla sposa che agitava il suo dalla banchina del molo e ormai quasi non si distingueva più egli provò istintivamente un gran sollievo che pur lo rese più triste a pensarci si accorse ora lì solo davanti allo specchio del mare di aver sofferto in quei dieci giorni una grande oppressione nell'intimità purtanto cara con la giovane sposa ora poteva pensare liberamente espandere la propria anima senza dover sforzare il cervello a indovinare a intendere i pensieri i sentimenti di quella creatura tanto diversa da lui e che tuttavia gli apparteneva così intimamente si confortò sperando che col tempo si sarebbe adattato alle nuove condizioni d'esistenza si sarebbe messo a pensare a sentire come Venerina o che questa con l'affetto con l'intimità sarebbe riuscita a trovarla via fino a lui per non lasciarlo più solo così in quell'esilio angoscioso della mente e del cuore Venerina e lo zio intanto parlavano di lui nella nuova casetta in cui anche Don Pietro aveva preso stanza si diceva lei sorridendo è proprio come tu hai detto babbalacchio minchione domandava Don Paranza palà è buono è buono è buono che significa zio osservava sospirando Venerina questo è vero riconosceva Don Pietro infatti i birbacchioni oggi si chiamano uomini accorti il tuo zio per il primo li rispetta ma speriamo che l'aria del nostro mare che deve essere sai più salato di quello del suo paese gli giovi ho gran paura anch'io però che somigli troppo a me quanto a giudizio gli si era affezionato lui Don Pietro ma non si proponeva neppure per curiosità di cercare di indovinare come egli la pensasse né gli veniva in mente di consigliarlo a Venerina vedrai anzi le diceva vedrai che a poco a poco prenderà gli usi del nostro paese testa ne ha prima di partire il clean aveva suggerito a Venerina di non lasciare andar più il vecchio zio alla pesca ma Don Pietro non solo non volle saperne ma anche si arrabbiò non sapete più che farvene adesso dai miei gronghi bene bene me li mangerò io solo non è per questo zio esclamò Venerina e allora volete farmi morire riprese Don Paranza c'era ai miei tempi un povero contadino che aveva 95 anni e ogni santa mattina saliva dalla campagna a Girgenti con una gran cesta d'erbaggi sulle spalle e andava tutto il giorno in giro per venderli lo videro così vecchio le sentirono pietà pensarono di ricoverarlo all'ospedale e lo fecero morire dopo tre giorni l'equilibrio cara mia toltagli la cesta dalle spalle quel poveretto perdette l'equilibrio e morì così io se mi togliete la lenza grunghi and'a essere da sera e domani sera e finché campo e se ne andava con gli attrezzi e con l'anternino alla scogliara del porto sola Venerina si metteva anche a pensare al marito lontano lo aspettava con ansia sì in quei primi giorni ma non sapeva neppur desiderarlo altrimenti che così due giorni in casa e il resto della settimana fuori due giorni con lui e il resto della settimana sola ad aspettare ogni sera che lo zio tornasse dalla pesca e poi la cena e poi a letto sì sola si contentava no neppure lei così troppo poco restava a lungo assorta in una segreta aspettazione che pure le ispirava a una certa ambascia quasi di sgomento quando e che prescia esclamò Don Paranza appena si accorse delle prime nausee dei primi capogiri lo previde quel boia d'agostino di un po' hai avuto paura che tuo zio non ci arrivasse a sentire la bella musica del gattino zio gridò venerina offesa e sorridente era felice era venuto il da fare in quelle lunghe sere nella casa sola cuffiette bavellini fasce camicine e non le sere soltanto non ebbe più tempo né voglia di curarsi di sé tutta in pensiero già per l'angioletto che sarebbe venuto dal cielo zia Rosolina dal cielo gridava la zitellona putibonda abbracciandola con furia e scombinandola tutta e me lo terra lei a battesimo lei e zio Pietro donna Rosolina apriva e chiudeva gli occhi mandava giù saliva con l'angoscia nel naso fra le strette di quella santa figliuola che pareva impazzita e non aveva nessun riguardo per tutti i suoi cerotti piano piano sì volentieri purché gli mettiate un nome cristiano io non lo so ancora chiamare tuo marito si chiama Larso come lo chiamano tutti le rispondeva ridendo venerina non me ne importa più adesso non le importava più di niente ora non si acconciava neppure pochino quando egli doveva arrivare rifatti un po' i capelli almeno le consigliava donna Rosolina non stai bene così ormai chi ne ha avuto così se mi vuole e se non mi vuole mi lasci in pace tanto meglio era così esclusiva la gioia di quella sua nuova attesa che il clean non si sentiva chiamato a parteciparne come di gioia anche sua si sentiva lasciato da parte e ne era lieto soltanto per lei quasi che il figlio nascituro non dovesse appartenere anche a lui nato lì in quel paese non suo da quella madre che non si curava neppure di sapere quel che egli ne sentisse e ne pensasse lei aveva già trovato il suo posto nella vita aveva la sua casetta il marito tra breve avrebbe avuto anche il figlio desiderato e non pensava che lui straniero era sul principio di quella sua nuova esistenza e aspettava che ella gli tendesse la mano per guidarlo non curante ogni ara lei lo lasciava lì alla soglia escluso smarrito e ripartiva e lontano per quel mare su quel guscio di noce si sentiva sempre più solo e più angosciato i compagni nel vederlo così triste non lo deridevano più come prima è vero ma non si curavano di lui proprio come se non ci fosse nessuno gli domandava che hai era il forestiere chissà come era fatto e perché era così non se ne sarebbe afflitto tanto egli se anche a casa sua come lì sul vaporetto non si fosse sentito estraneo casa sua questa in quel borgo di Sicilia no no il cuore gli volava ancora lontano lassù al paese natale alla casa antica dove sua madre era morta dove abitava la sorella che forse in quel punto pensava a lui e forse lo credeva felice una speranza ancora resisteva in lui ultimo argine ultimo riparo contro la malinconia che lo invadeva e lo soffocava che si vedesse che si riconoscesse nel suo bambino appena nato e si sentisse in lui e con lui lì in quella terra d'esilio meno solo non più solo ma anche questa speranza gli venne subito meno appena guardato il figlioletto nato da due giorni durante la sua assenza somigliava tutto alla madre nero nero povero nino mio sicilianaccio gli disse venerina dal letto mentre egli lo contemplava deluso nella cuna richiudi la cortina me lo farai svegliare non mi ha fatto dormire tutta la notte poverino ha le dogliette ora riposa e io vorrei profittarne e Klim baciò in fronte commosso la moglie riaccostò gli scuri e uscì dalla camera in punta di piedi appena solo si premette le mani sul volto e soffocò il pianto irrompente che sperava un segno almeno un segno in quell'esseruccio nel colore degli occhi nella prima peluria del capo che lo palesasse suo straniero anche lui e che gli richiamasse il suo paese lontano che sperava quando anche non sarebbe forse cresciuto lì come tutti gli altri ragazzi del paese sotto quel sole cociente con quelle abitudini di vita alle quali egli si sentiva estraneo allevato quasi soltanto dalla madre e perché con gli stessi pensieri con gli stessi sentimenti di lei che sperava straniero straniero anche per suo figlio ora nei due giorni che passava in casa cercava di nascondere il suo animo né gli riusciva difficile perché nessuno vadava a lui Don Pietro se ne andava di solito alla pesca e Venerina era tutta intenta al bambino che non gli lasciava neppure toccare me lo fai piangere non sai tenerlo via via esci un po' di casa che stai a guardarmi vedi come mi sono ridotta su va a fare una visita alla zia Rosolina che non viene da tre giorni forse vuol fatta davvero la corte come dice zio Pietro ci andò una volta il clean per far piacere alla moglie ma ebbe dalla zitellona tale accoglienza che giurò di non ritornarci più né solo né accompagnato solo mi or no gli disse Donna Rosolina vergognosa e stizzita con gli occhi bassi mi dispiace ma devo dirvelo nipote capisco siete mio nipote ma la gente vi sa forestiere con certi costumi curiosi e chissà che cosa posso aspettare solo mi or no verrò io più tardi a casa vostra se non volete venire qua con Venerina si vide così messo alla porta e non seppe ne poter riderne come Venerina quando egli le raccontò l'avventura ma se la sapeva che quella vecchia era così fastidiosamente matta perché spingerlo a fargli fare quella ridicola figura voleva forse ridere anche lei alle sue spalle non hai trovato ancora un amico gli domandava Venerina no è difficile lo so siamo orsi caro mio tu poi sei così ancora come una mosca senza capo non ti vuoi svegliare va a trovare lo zio almeno sta al porto tra voi uomini vi intenderete io sono donna e non posso tenerti conversazione ho tanto da fare egli la guardava la guardava e gli veniva di domandarle non mi ami più Venerina sentendo che non si muoveva alzava gli occhi del cucito lo vedeva con quell'aria smarrita e rompeva in una gaglia risata che vuoi da me uno maccione tanto che se ne sta in casa come un ragazzino Dio benedetto impara un po' a vivere come i nostri uomini più fuori che dentro non posso vederti così mi fai rabbia e pena fuori non lo vedeva ma dall'aria triste con cui egli si disponeva ad uscire cacciato così di casa come un cane caduto in disgrazia avrebbe potuto argomentare come egli si trascinasse per le vie del paese in cui la sorte l'aveva gettato e che egli già odiava non sapendo dove andare si recava all'agenzia del DINICA trovavo ogni volta il vecchio dietro gli scritturali col cuollo allungato e gli occhiali sulla punta del naso per vedere che cosa essi scrivessero nei registri non perché li fidasse ma chissà si fa presto per una momentanea distrazione a scrivere una cifra per un'altra a sbagliare una somma e poi per osservare la calligrafia ecco la calligrafia era il suo debole voleva i registri puliti intanto in quella stanzetta umida e buia a pian terreno certi giorni alle quattro ci si vedeva malapena si dovevano accendere i lumi è una vergogna padron di nica con tanti bei denari quali denari domandava il di nica se me li date voi e poi niente qua ho cominciato qua voglio finire vedendo entrare il clean si angustiava e mo e mo e mo e andava incontro col capo reclinato indietro per poter guardare attraverso gli occhiali insellati sulla punta del naso e diceva che cosa volete figlio mio niente e allora prendetevi una seggiola e sedete là fuori della porta temeva che gli scritturali si distraessero davvero e poi non voleva che colui sapesse gli affari dell'agenzia prima del viaggio il clean sedeva un po' lì sulla porta nessuno dunque lo voleva già egli non portava più il berretto di pelo era vestito come tutti gli altri eppure ecco la gente si voltava ad osservarlo quasi che egli si tenesse esposto lì davanti all'agenzia e a un tratto si vedeva girare innanzi sulle mani e sui piedi la ruota un monellaccio che per quella bravura da pagliaccetto gli chiedeva poi un soldo e tutti ridevano che c'è che c'è gridava padron di nica facendosi alla porta teatrino marionette i monellacci si sbandavano urlando fischiando caro mio diceva allora di nica il clean voi lo capite sono selvaggi andatevene fatemi questo piacere e il clean se ne andava anche quel vecchio con la sua tirchieria diffidente era venuto in uggia si recava sulla spiaggia tutta ingombra di zolfa catastato e con un senso profondo d'amarezza e di disgusto assisteva alla fatica bestiale di tutta quella gente sotto la vampa del sole perché coi tesori che si ricavano da quel traffico non si pensava a far lavorare più umanamente tutti quegli infelici ridotti peggio delle bestie da soma perché non si pensava a costruire le banchine sulle due scogliere del nuovo porto dove si ancoravano i vapori mercantili e quelle banchine non si sarebbe fatto più presto l'imbarco dello zolfo coi carli o coi vagoncini non ti scappi mai di bocca una parola su questo argomento gli raccomandò Don Paranza una sera dopo cena vuoi finire come Gesù Cristo tutti i ricchi del paese hanno interesse che le banchine non siano costruite perché sono i proprietari delle spigolare che portano lo zolfo dalla spiaggia sui vapori vada sai ti mettono in croce sì e intanto sulla spiaggia nuda tra i depositi di zolfo correvano scoperte le fogne che appestavano il paese e tutti si lamentavano e nessuno badava provvedere d'acqua sufficiente il paese assetato a chi serviva tutto quel denaro con tanto accanimento guadagnato chi se ne giovava tutti i ricchi e tutti i poveri non un teatro né un luogo o un mezzo onesto di svago dopo tanto e così enorme lavoro appena sera il paese pareva morto vegliato da quei quattro lampioncini a petrolio e pareva che gli uomini tra le brighe continue e le diffidenze di quella guerra di lucro non avessero neanche il tempo di badare all'amore se le donne si mostravano così svogliate né ghittose il marito era fatto per lavorare la moglie per badare alla casa e far figlioli qua pensava Eclin qua tutta la vita e si sentiva stringere la gola sempre più da un nodo di pianto l'hammerfest arriva l'hammerfest forse ad annunziare a venerina don paranza tutto ansante con l'avviso guarda arriverà oggi e l'arzo è partito porco diavolo chissà se farà tempo a rivedere il cognato e gli amici scappò dal dinica con l'avviso in mano Agostino l'hammerfest il dinica lo guardò come se lo credesse a mattito chi è non lo conosco il vapore di mio nipote e che vuoi da me salutamelo si mise a ridere con gli occhi chiusi di una sua speciale risiatina nel naso sentendo le bestie che scappavano don pietro nel tumultuoso dispiacere che gli cagionava quel contrattempo se si potesse eh già gli rispose dinica detto fatto ora telegrafo a tunisi e lo faccio tornare a rotta di collo non dubitare sempre grazioso sei stato gli gridò don paranza lasciandolo in asso quanto ti voglio bene e tornò a casa a pararsi per la visita a bordo su l'hammerfest appena entrato in porto fu accolto con gran festa da tutti i marinai compagni del clean egli che per gli affari del vice consolato della sbrigava con quattro frasucce solite dovette quella volta violentare orribilmente la sua immaginaria conoscenza della lingua francese per rispondere a tutte le domande che gli venivano rivolti a tempesta sul clean e ridusse in uno stato compassionevole la sua povera camicia inamidata tanto sudò per lo stento di far comprendere a quei diavoli che egli propriamente non era il suocero del arso perché la sposa di lui non era propriamente sua figlia quantunque come figlia l'avesse allevata fin da bambina non lo capirono o non vogliono capirlo Boupère Boupère e va bene esclamava Don Peranza sono diventato Boupère non sarebbe stato niente se in qualità di Boupère non avessero voluto ubriacarlo nonostante le sue vivaci proteste ce ne vuoi pas devin non era vino chissà che diavolo gli avevano messo in corpo si sentiva vampare e che enorme fatica a far entrare in testa tutto l'equipaggio che voleva assolutamente conoscere la spogina che non era possibile così tutti insieme il solo Boupère il solo Boupère dov'è? pusso la mano venè venè e se lo condusse in casa il cognato non sapeva ancora della nascita del bambino aveva recato soltanto alla sposa alcuni doni per incarico della moglie lontana era dispiacentissimo di non poter riabbrazzare Lars fra tre giorni l'hammerfest doveva ripartire per Marsiglia venerina non pote scambiare una parola con quel giovane dalla statura gigantesca che le richiamò vivissimo alla memoria il giorno che Lars era stato portato sulla barella moribondo nell'altra casa dello zio sì a lui e l'aveva recato l'occorrente per scrivere quella lettera all'abbandonato da lui aveva ricevuto la borsetta e per averlo veduto piangere a quel modo ella si era presa tanta cura del povero infermo e ora ora Lars era suo marito e quel colosso biondo e sorridente chino sulla culla suo parente suo cognato volle che lo zio le ripetesse in siciliano ciò che gli diceva per il piccino dice che somiglia a te rispose don Paranza ma non si credere sai somiglia a me invece con quella porcheria che gli avevano cacciato nello stomaco a bordo se lo lasciò scappare don Paranza non voleva mostrare il tenerissimo affetto che gli era nato per quel bimbo che gli chiamava gattino venerina si mise a ridere zio e che dice adesso gli domandò poco dopo sentendo parlare lo straniero suo cognato abbi pazienza figlia mia sbuffò don Paranza non posso attendere a tutte e due ah sì l'arzo sì dommage che rabbia dice ah certo non sarà possibile vederlo se il capitano capisci già oui engagement impegni commerciali capisci il vapore non può aspettare eppure quest'ultimo strazio non fu risparmiato al clean per un ritardo nell'arrivo delle polizze di carico l'hammerfest dovette rimandare d'un giorno la partenza si disponeva già a salpare da porta in peducle quando il vaporetto del dinica entrò nel molo Darsklin si precipitò su una lanza e volò a bordo del suo piroscafo col cuore in tumulto non ragionava più ah partire fuggire quei suoi compagni parlare di nuovo la sua lingua sentirsi in patria lì sul suo piroscafo eccolo grande bello fuggire da quell'esilio da quella morte si buttò fra le braccia del cognato e lo strinse a sé fin quasi a soffocarlo scoppiando irresistibilmente in un pianto dirotto ma quando i compagni intorno richiesero costernati la cagione di quel pianto convulso egli rientrò in sé mentì disse che piangeva soltanto per la gioia di rivederli solo il cognato non gli chiese nulla gli lasse negli occhi la disperazione il violento proposito con cui era volato a bordo e lo guardò per fargli intendere che gli aveva compreso non c'era tempo da perdere suonava già la campana per dare il segno della partenza poco dopo Lars Kling dalla lancia vedeva uscire dal porto l'hammerfest e lo salutava col fazzoletto bagnato di lacrime mentre altre lacrime gli sgorgavano dagli occhi senza fine comandò al barcaiolo di remare fino all'uscita del porto per poter vedere liberamente il piroscafo allontanarsi man mano nel mare sconfinato e allontanarsi con lui la sua patria la sua anima la sua vita eccolo più lontano più lontano ancora spariva torniamo gli domandò sbadigliando il barcaiolo egli accennò di sì col capo lontano Grazie a tutti.